Coach Arioli, qua a Varese è stata una partita intensa, una partita dura, una gran bella partita e avete vinto e avete vinto comunque meritatamente, dimostrato sempre di essere una grande squadra. Sì, abbiamo giocato contro una squadra in grande condizione perché Varese sapevamo che era in un ottimo momento su un campo difficile, devo dire che abbiamo avuto alcuni momenti di crisi dovuti alla pressione che ci ha messo un certo momento Varese che ha allungato la difesa, abbiamo perso in alcuni momenti un po' il controllo tecnico della partita ma devo dire che nell'ultimo quarto abbiamo tirato fuori le nostre vere qualità che sono una squadra che ha lottato su ogni pallone, non abbiamo più sbagliato movimento difensivo, nessuna rotazione, abbiamo tenuto a questo punto un punteggio molto basso Varese e devo dire che anche nel momento in cui abbiamo avuto dei tiri liberi decisivi in mano anche dei ragazzi più giovani non ha tremato, quindi una vittoria importantissima. E questo è il vostro pubblico che vi segue sempre con calore? Ma certamente sono un grande aiuto, vengono ovunque, ci seguono anche in trasferte anche più lontane di questa e devo dire che per noi è molto importante, ho voluto sapere che un po' Torino al di là di tutto si sta svegliando intorno alla pallacanesto, noi veramente ci abbiamo messo tutto quello che potevamo fino a questo momento e devo dire che questo ci conforta e ci aiuta moltissimo. Noi stiamo aspettando un risultato importante, ci dica quale? Se Monza batte Piacenza a pochi secondi era su, noi siamo matematicamente in Serie A, quindi stiamo proprio aspettando a secondi che arrivi la notizia, magari siamo tutti ancora in campo come si può magari vedere, stiamo proprio aspettando tutti quanti, trepidanti. Grazie mille, tanti auguri. Arrivederci. Grazie.